Ben tornati ad un nuovo appuntamento con EnjoyTG, l'unico telegiornale del mondo della notte all'interno di Enjoy Television. Questa settimana iniziamo parlandovi dell'isola di Ibiza. Grande protagonista dell'estate lo sarà anche durante l'estate 2012. Anche se manca ancora un pochino, i giochi sono già fatti e ci sono state delle novità per quanto riguarda la prossima estate. DJ che si spostano, serate che cambiano e questa settimana vi confermiamo che il DJ olandese Armin Van Buren sarà protagonista tutti i lunedì sera con la sua one night alla discoteca Privilege. L'Ujuaia, che è stato il locale rivelazione dell'estate 2011 sull'isola di Ibiza, torna per l'estate 2012 con grandi novità. La domenica il protagonista dell'Ujuaia sarà AVC, per quanto riguarda il lunedì sarà Devighetta, mercoledì gli Swedish House Mafia e il giovedì Lussiano e la sua cadenza Records. Si sa che quando le cose funzionano siano sempre imitate, sarà per questo motivo che nasce per l'estate 2012 a San Antonio, quindi dall'altra parte dell'isola rispetto ad Ibiza città, un locale che prende decisamente spunto da quello che è l'Ujuaia. Si chiamerà Ochan, ma non è ancora dato sapere la line up e gli ospiti che avrà. Lo stile sarà quello, ma noi di Enjoy Television vi terremo informati su questa novità. Sempre per quanto riguarda l'isola di Ibiza, la scorsa settimana vi abbiamo anticipato la novità dell'1-2-3 Festival che si terrà a Ibiza l'1, 2 e 3 luglio 2012. Vi abbiamo detto che ci saranno grandi artisti come Devighetta, come Sting, come Lussiano e tanti altri. Ha dato conferma di far parte del CAS di questo festival tutto nuovo per l'isola di Ibiza, attenzione, anche Elton John, che sarà possibile vedere sul palco dell'1-2-3 Festival durante la prima giornata. Per quanto riguarda la rock star Lemmy Kravitz, vi riconfermiamo la sua presenza e vi diciamo anche che sarà protagonista in un back-to-back insieme a Lussiano. Si è appena conclusa l'edizione 2012 di Time Warp Manheim. Noi di Enjoy Television siamo stati con le nostre telecamere a riprendere il grande evento, siamo stati ad intervistare i grandi protagonisti, li vedrete presto su Enjoy Television, ma quest'oggi possiamo annunciarvi la data ufficiale di quello che sarà Time Warp Italia. Vi avevamo annunciato in passato che Time Warp sarebbe tornato in Italia dopo la bellissima edizione del 2011, la data ufficiale per il 2012 è il 29 settembre. Quindi rimanete sintonizzati su Enjoy Television, non appena disponibile, e noi saremo in grado di darvi tutto il line-up completo con gli orari, la location e tutto quanto vi può servire per partecipare a questo grande evento. Concludiamo l'edizione di questa settimana di EnjoyTG parlando di produzioni discografiche. È pronto per l'uscita il nuovissimo album del DJ Paul Van Dyck. L'album si titola Evolution, ci sarà un launch party il 5 maggio 2012 a Berlino, ma la location e la line-up non è ancora dato saperli. Sono invece disponibili i biglietti su www.vanditknights.com. L'uscita dell'album è preceduta da un nuovo singolo firmato da Paul Van Dyck, featuring Adam Young, dal titolo Eternity. Lo spazio dedicato ad EnjoyTG all'interno di Enjoy Television termina qui, noi ci rivediamo la settimana prossima con altre novità riguardanti il mondo della notte e il mondo del clubbing. Buon divertimento a tutti, ciao! Ciao!